Ciao, nel momento studio di oggi volevo condividere con te questa canzone Woods Bolero di Mark Wood, in cui ci sono un po' di obbligati basso, violino, voce che stavo cercando di tirarmi giù. Andiamo a ascoltarli prima, è una figata. Devo andare a suonare a metà giugno con i miei con pari Artfix, violino, chitarra elettrica e c'è anche questo in repertorio. E niente, mi stavo tirando giù gli obbligati e pensavo di condividere lo studio con te. Allora, prendiamola a pezzi. All'inizio... Questa parte qua, Re, Do, Re. Dopo va a spostarlo, mettendo, salendo. Però il primo non lo fa al basso, perché qua lascia la pausa e fa solo la risposta. Il terzo stacco, quindi nel primo La fa la pausa e nel secondo La, 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 Sol, Fa, Sol, Fa, La. Proviamo a andarle a fare tutti e tre. Ti metto la camera in primo piano. E qua c'è un primo stacco, bello tosto. Secondo me fa una cosa del genere. Andiamo a sentirlo. Scusa. Allora, parte dal Re. Re, Do, La, Do. Quindi, si appoggia ad alcune note lunghe. Il primo è il Do. Re, Do, La, Do. La, Sol, La. E poi il La. Per il finale, secondo me, sposta. Qua siamo a una frase, una frase pentatonica. Quindi, parti va. Utilizzando, Sol, Fa, Sol, Fa, Re, Do. E per cadere sul Re, che è poi la nota d'arrivo finale. Proviamo a farla insieme, vediamo se funziona. E poi qua andrò a suonare in levare sul 2 e sul 4. E qua fa l'ultimo obbligato finale. Può assomigliare all'altro, però, allora, io vado a prenderlo più acuto. Perché poi lo vado a finire su un Re basso che prendo qua, così riesco a utilizzare tutto qua in zona. Allora, secondo me, qua va a mettere il La un po' più lungo. E poi di nuovo il Sol. La, La, Sol, Fa, Sol. Mi, Re, Mi. Proviamo. Sì, La non è tanto lungo. Secondo me è qua. E poi qua mi sembra che parta una scala discendente. che io ho individuato in questa. Re, Do, Si bemolle, quindi a sesta minore. La, Sol, Fa, Mi, Re. Quindi lui parte dal La acuto. Proviamo ad andare a vedere se funziona. Si bemolle e va avanti. Boh, sembra abbastanza quella. Proviamo a suonarla tutta. Vediamo se riesco a beccarla. Perché poi il difficile è proprio andarla a prendere tutte di finita. Non l'ho dimenticato. Eccolo qua. Riproviamo. Ebbè, è il bello della diretta. Allora. Allora. Wow, bellissimo. Bellissimo. So già che mi divertirò molto. Lo studio ancora, chiaramente, è ancora bene da vogliare. Ci vediamo al prossimo, allora. Spero che questi video siano utili. Fammelo sapere se ti piacciono. Ciao.